Benvenuti al caffè! Oggi parliamo di tempo, non del tempo atmosferico, quello meteorologico, ma del tempo fisico, in senso stretto, quello che scorre, e di come l'intuizione, proprio il caso di dirlo, di un fisico svizzero potrebbe risolvere un paradosso nella fisica, di come la relatività e la meccanica quantistica vedono il tempo e il modo stesso in cui viene calcolato il tempo nella fisica. Partiamo innanzitutto da una domanda, il tempo esiste? In molti tra filosofi e fisici se lo sono chiesti nel corso dei secoli, ed è una domanda più che lecita, dato che il presente è fuggente, il passato non è più e il futuro non è ancora, quindi sembra essere solamente un'illusione, un po' come la sabbia che scorre tra le dita, qualcosa che ci sfugge, che non lascia traccia. Tuttavia noi abbiamo una percezione dello scorrere del tempo e sappiamo anche che lo scorrere del tempo è relativo, sia da un punto di vista soggettivo, infatti ci sembra scorrere più lentamente quando facciamo qualcosa che non ci piace e più velocemente quando facciamo qualcosa che invece ci piace, ma anche da un punto di vista fisico. Secondo la teoria della relatività ristretta, infatti, il tempo scorre in modo diverso per osservatori che si muovono a velocità diverse. È famoso il caso del paradosso dei due gemelli, per cui se ci sono due gemelli, uno rimane sulla Terra, quell'altro parte per un viaggio interstellare a velocità prossima a quella della luce, per poi ritornare dopo parecchi anni sulla Terra, beh, allora ci si accorgerà che il gemello rimasto sulla Terra sarà invecchiato normalmente, mentre quello che ha effettuato il viaggio interstellare sarà rimasto giovane. Questo è appunto spiegabile con la teoria della relatività ristretta. Non solo, ma anche secondo la teoria della relatività generale, anche la gravità influisce sullo scorrere del tempo. Infatti, come si vede anche nel film Interstellar, ad esempio, avvicinandosi ad un buco nero il tempo scorrerà molto più lentamente che sulla Terra, ad esempio, o vicino a corpi con una massa minore. Secondo la teoria della relatività, infatti, il tempo assieme alle tre dimensioni spaziali forma un continuum spazio-temporale che può essere anche deformato e costituiscono in particolare quello che viene chiamato universo blocco, in cui il passato, il presente e il futuro coesistono allo stesso modo e lo scorrere del tempo non è nient'altro che un'illusione. D'altro canto abbiamo invece la meccanica quantistica, l'altra grande teoria del Novecento assieme alla teoria della relatività. Nella meccanica quantistica è presente un evento che distingue tra il passato e il futuro, ed è la misura, la misura quantistica. Se consideriamo, ad esempio, un sistema quantistico che si trova in una sovrapposizione di stati, diciamo per semplificare che una particella si possa trovare sia nel punto A che nel punto B, effettuando una misura di dove effettivamente si trova la particella, assumerà una posizione ben precisa, ovvero o nel punto A o nel punto B. Tuttavia, ripetendo più volte l'esperimento, se la probabilità di trovarsi nel punto A e nel punto B sia, ad esempio, del 50% e del 50%, allora troveremo un ugual numero di volte l'elettrone nel punto A e nel punto B. Tuttavia, dopo ogni volta che abbiamo effettuato la misura, l'elettrone si trova in una posizione specifica e quindi abbiamo contratto, come si dice, lo stato, che prima si trovava con ugual probabilità in A e in B, dopo la misura in un unico punto. In questo modo abbiamo rotto la simmetria temporale facendo una distinzione tra il passato, in cui l'elettrone si trovava per il 50% in A e per il 50% in B, con il futuro in cui l'elettrone si trova solamente in A o solamente in B. Esiste quindi quasi un paradosso, una diversa interpretazione del tempo nella fisica, intrinsecamente nella teoria della relatività e nella meccanica quantistica. Ed è proprio qui che entra in gioco l'intuizione di Nicola Gisin, un fisico sperimentale svizzero, che ha proposto l'utilizzo della matematica intuizionista, che in realtà è vecchia di un secolo quasi, per risolvere questi problemi e calcolare il tempo in modo differente. Ma prima di vedere che cos'è e come funziona la matematica intuizionista, dobbiamo fare un passo indietro e introdurre alcuni concetti, come quello di determinismo, indeterminismo, caos e probabilità. Abbiamo già visto nella meccanica quantistica come l'indeterminazione, cioè la impossibilità di prevedere il futuro, dipenda dalla probabilità, da un'interpretazione probabilistica delle equazioni della meccanica quantistica. Supponiamo ad esempio di voler prevedere il meteo fra una settimana utilizzando la meccanica quantistica, cosa che non viene fatta perché per ovvi motivi non è fisicamente possibile, perché è troppo complicato. Tuttavia, se fossimo in grado di utilizzare la meccanica quantistica per effettuare previsioni meteorologiche, avremmo una probabilità che ci sia il sole oppure che venga a piovere o a nevicare o a grandinare. Ovviamente la probabilità maggiore sarebbe per una sola di queste condizioni, per uno solo di questi eventi, ad esempio al 99,9% c'è il sole, ma esisterebbe sempre una probabilità, non nulla seppur magari infinitamente piccola, che piova oppure che venga a nevicare o così via. E questa probabilità è proprio legata all'indeterminazione del sistema quantistico, cioè al fatto che non è possibile prevedere prevedere intrinsecamente in modo certo il futuro. Se invece volessimo prevedere il meteo utilizzando, cosa che viene fatta, la meccanica classica, beh allora ci ridurremo comunque ad una probabilità di esattezza delle nostre previsioni. Tuttavia in questo caso l'incertezza non è dovuta a una indeterminazione intrinseca della teoria e della realtà del sistema fisico considerato, bensì dal caos, ovvero da una sensibile dipendenza del sistema dalle condizioni iniziali, ovvero dalla nostra ignoranza. Cioè per il fatto che non conosciamo esattamente la velocità di ogni singola particella di aria, la dimensione di ogni singola nuvola e qualsiasi altra condizione di temperatura in ogni punto dello spazio, che allora non possiamo eseguire conti infinitamente precisi e quindi giungere ad una conclusione, ad una previsione assolutamente certa. Tuttavia, proprio perché la meccanica classica è deterministica, è possibile nel caso in cui avessimo e conoscessimo in modo infinitamente preciso tutte le variabili al tempo presente, prevedere il meteo futuro anche fra una settimana in modo assolutamente esatto. Esiste quindi una distinzione netta tra la fisica classica, che è deterministica, anche se influenzata dalla teoria del caos, quindi da questa sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali, e la meccanica quantistica, che è invece intrinsecamente indeterministica e l'imprevedibilità del futuro è legata non alla nostra ignoranza delle condizioni esatte del presente, ma proprio al sistema fisico stesso. È in questo contesto che si inserisce l'intuizione di Nicola Gesin e dell'utilizzo della matematica intuizionista. Beh, noi sappiamo che la matematica classica, standard, quella che conosciamo, è formata da numeri reali, che sono numeri che possono essere definiti in modo infinitamente preciso. Possiamo dire, ad esempio, il numero 5. Il numero 5 è uguale al numero 5 virgola un numero infinito di zeri. È quindi un numero che conosciamo con una precisione infinita, ed è così definito. Tuttavia, possiamo anche dire che il numero 4 virgola 9 periodico, cioè 4 seguito dopo la virgola da un numero infinito di cifre uguali a 9, è identico a 5. Questo perché la differenza tra 4 virgola 9 periodico e 5 è infinitesima, cioè tende a 0 per il numero di 9 che tende a infinito. Ma poiché i numeri sono conosciuti in modo infinitamente precisi, beh, allora la differenza è infinitesima, ovvero 0, e il numero 4 virgola 9 periodico e 5 sono identici. In questo modo è anche possibile separare tutti i numeri fra quelli maggiori e quelli minori di 5, escludendo ovviamente quelli uguali a 5. Questo non è invece possibile nella matematica intuizionista, perché in questa matematica i numeri non sono noti con una precisione infinita, ovvero con infinite cifre, ma sono in costruzione, in divenire, ovvero una cifra dopo l'altra è conosciuta pian piano e quindi l'informazione si aggiunge nel tempo, è un processo di costruzione. Considerate ad esempio il numero 4,999, perché il numero 4,999 per la matematica classica significa 4,999 seguito da un numero infinito di zeri dopo l'ultimo 9. Tuttavia questo non è valido per la matematica intuizionista e quindi 4,999 significa che non conosciamo la quarta cifra decimale e se andiamo via via a scoprirla, a calcolarla o a sceglierla, beh, allora possiamo aggiungere per esempio un altro 9 e poi un altro 9 ancora e così via. Però nulla ci garantisce che il numero 9 continuerà ad essere aggiunto all'infinito. Se così fosse infatti questo numero 4 diventerebbe 4,9 periodico e sarebbe uguale a 5. Tuttavia se ad un certo punto comparisse un 7, ad esempio, un numero diverso da 9, questo numero sarebbe esattamente minore di 5. Questo però non possiamo definirlo a priori, ovvero all'inizio, quando abbiamo solamente il numero 4,999. C'è quindi una indecidibilità, una indeterminazione intrinseca nella matematica intuizionista. E questo particolare può essere molto importante per introdurre l'indeterminazione anche nella meccanica classica e nella teoria della relatività. Non si tratta però solamente di numeri e per capire questo bisogna fare un passo indietro e parlare del paradosso del buco nero e dell'informazione. Quando infatti un buco nero assorbe un altro corpo, diciamo così, l'informazione contenuta nell'altro corpo, ovvero carica, velocità, massa e così via, vengono assorbiti dal buco nero. Secondo la teoria della relatività generale, l'informazione contenuta nel corpo che viene assorbito dal buco nero viene distrutta e quindi l'informazione viene persa in questo modo. Per la meccanica quantistica invece l'informazione non può mai essere né creata né distrutta, si conserva sempre. Tuttavia l'utilizzo della matematica intuizionista potrebbe risolvere questo paradosso. Infatti un numero nella matematica intuizionista è un qualcosa di intrinsecamente indeterminato e aggiungendo cifre a questo numero diventa sempre più preciso. Aggiungiamo quindi informazione. Secondo questo punto di vista, quindi l'assorbimento di un corpo da parte di un buco nero corrisponderebbe alla distruzione di informazione, ovvero alla rimozione di cifre a questo numero della matematica intuizionista, mentre lo scorrere del tempo, d'altro canto, corrisponderebbe all'aumentare dell'informazione, ad acquisire nuova informazione sul numero, ovvero ad aggiungere cifre al numero della matematica intuizionista. Questo però non è solo un'interpretazione matematica o filosofica, ma anche fisica, perché si è capito che l'informazione nella fisica ha un significato reale, occupa spazio, energia, e non può essere contenuto un numero infinito di informazione in uno spazio limitato, in uno spazio finito. E quindi deve essere intrinsecamente limitata questa informazione per spazio, per oggetto, per ogni sistema quantistico. E quindi può essere descritta proprio da un numero che non è infinitamente preciso, che non contiene un'informazione infinita, ma da un numero con un numero limitato di cifre, scusate il gioco di parole, ovvero un'informazione limitata. Applicando la matematica intuizionista a tutta la fisica è possibile quindi introdurre in modo intrinseco questa indeterminazione e di conseguenza anche una direzione alla freccia del tempo, perché la differenza tra futuro e passato starebbe proprio nell'informazione. Il futuro avrebbe infatti più informazione rispetto al passato, o comunque un'informazione diversa, perché si andrebbero ad aggiungere cifre a questo, diciamo, numero, precisione, quindi informazione al numero, al sistema quantistico in parallelo, oppure a rimuoverlo nel caso appunto del buco nero. Ovviamente questo si tratta solamente di una teoria al momento attuale di un'intuizione, tuttavia sono stati pubblicati anche numerosi articoli, già, che vi linko e vi lascio in descrizione se volete leggerli, che spiegano anche le varie implicazioni di questa teoria nella fisica e chissà se cambieranno il modo in cui noi percepiamo lo scorrere del tempo o il modo in cui facciamo la fisica stessa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ciao alla prossima! Grazie a tutti!